Primo classificato da Alessandro, effettivamente stanchissimo, non riesci neanche a parlare, però abbiamo visto un momento di gioia al traguardo per te, è stato veramente uno sfogo. Sì, sì, per me è stato uno sfogo tutti i miei allenamenti, questo è il risultato. Allenandosi ragazzi, allenandosi si diventa forti, basta se uno lo vuole. Un buon livello comunque per quanto riguarda gli atleti in gara, lei è spuntata anche su nomi importanti. Sì, sì, è stata una bellissima esperienza perché è stato i miei primi italiani ciclometri e sono soddisfatto. Ademe, secondo posto per te, soddisfazione, una gara difficile? Sì, è una gara che non sapevo come fosse difficile, ci ho provato fino alla fine e poi ci ho provato all'inizio della salita e era troppo presto. Lì mi ha ripreso e va bene così. Come ti sei preparato, ovvero in generale, a questa gara 10 km su strada, quindi per l'appunto faticosi? Io non ho mai fatto 10 km, ho sempre fatto 6.000, massimo 7.000. Poi ho voluto tuffarmi in questa gara mai fatta, fiducioso e direi che è andata bene, insomma. Romualdo, terzo posto per te, Virtus Campobasso, quindi giochi in casa. In casa, sì. È una bella soddisfazione, bella gara, bel percorso. E per me è la prima volta questa gara, soddisfatissimo proprio, bellissimo. Avresti mai immaginato alla fine che un campionato italiano si fosse potuto correre qui in Molise? Questo è stato grazie anche agli sforzi, in questo caso, della nuova Atletica Esernia. Sì, complimenti alla nuova Atletica Esernia, tra virgolette il nostro rivale in casa Molise. Comunque c'è stima nei confronti degli avversari e bello, una bella giornata, una bella serata. Comunque c'è stima nella nuova Atletica Esernia, tra virgolette il nostro rivale in casa.